Cosa si può fare con 2 euro? Puoi fare colazione al bar, pagare il parcheggio, scaricare un gioco e se potessi donare un futuro a chi non ce l'ha? Sostieni Mandami a scuola il progetto della Fondazione Mediolano Mollus in favore di Amanio ANG per salvare dalla strada i bambini di Nairobi. Al 45506 dona 2 euro con un SMS dal tuo cellulare o 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa. 45506 Insieme daremo loro un futuro. Insieme daremo loro un futuro.